Tirare fuori le cose del pit tower che magari dovessi dire, scende tutto da me, va giù, ci sono in stazione di... esatto, e poi ti viene caricato qua, perfetto, è tutto qua. Ministro, buon lavoro. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao sindaco. Ciao, sta bene. Grazie a te, ciao. E' finuto. Eccoci. E' molto importante il fatto che grazie allo sforzo degli enti locali, della regione, e anche credo alle condizioni generali create dal provvedimento del governo, abbiamo finalmente un investimento straniero che è una fiducia nel nostro paese, è molto importante l'investimento nella logistica perché l'Italia ha un ritardo storico nella logistica, questo ritardo va colmato, lo stiamo facendo, programmando le infrastrutture in maniera che siano utili ai sistemi industriali e turistici e credo che questo polo di logistico naziale sia davvero un segno di una direzione giusta e quindi lavorando molto sulla logistica potremo recuperare davvero diversi miliardi per le nostre imprese e creare tanti posti di lavoro. Ma l'Italia avrà veramente la capacità di attrarre i grandi investitori stranieri? Sì, l'Italia ha questa capacità, il motivo per cui sono state abbassate le tasse, l'IRAP sul costo del lavoro, l'IRES, questi programmi di abbattimento delle tasse appunto insomma appunto per favorire di nuovo la fiducia delle grandi imprese, le risultate, credo che al nord ma anche al sud sta questo percorso avviandosi in maniera di nuovo più decisa e c'è ancora tanto lavoro da fare e quindi lo faremo, cerchiamo di farlo. Grazie, buongiorno.